E allora eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con lo sport, spazio al ciclismo, gran pubblico e tasso tecnico elevato per la prima edizione del trofeo Gimur di ciclismo su strada per esordienti disputato domenica in zona industriale a Bolzano. Esordienti con la turbo in zona industriale a Bolzano in occasione della prima edizione del trofeo Gimur organizzato dalla GS Alto Adige e disputato su un circuito di 35 chilometri che i giovani ciclisti hanno coperto alla considerevole media di 37,52 chilometri orari. Forse un buon incentivo è stata la diretta streaming, una primizia assoluta a livello nazionale per una gara di questa categoria. Sta di fatto che gli 88 iscritti in rappresentanza di 21 società provenienti da Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia hanno entusiasmato il folto pubblico presente. Ad imporsi nella categoria esordienti secondo anno è stato il bergamasco Davide Persico al decimo successo stagionale che ha fatto la differenza sulla salita di Castella Flavone dove ha staccato tutti. Sì, è stata una gara abbastanza dura fin dall'inizio perché ci sono stati molti scatti. Si è sempre riuscito ad andare a chiudere il mio compagno e poi in salita ha cercato di tenere i primi e poi ho fatto la volata e sono riuscito a vincere. C'erano molti scatti e il mio compagno è stato in qualche fuga, io rimanevo in direzione del gruppo e poi in salita sono iniziati un po' gli scatti e allora mi sono messo davanti anch'io e dopo l'ho spuntata in volata. Alla secondo posto Edoardo Zambanini della ciclistica DRO che ha preceduto il primo degli altoatesini, il bolzanino Luca Dallago della società organizzatrice. Quando siamo arrivati all'imbocco della salita ero in terza posizione, durante la salita ci sono stati molti scatti, io stesso ho provato a fare due tentativi ma non sono riuscito ad evadere dal gruppo. Siamo arrivati in volata in un gruppetto di quattro persone e in quel momento Persico, l'atleta che ha vinto la gara è scattato, Zambanini è andato dietro, io non ho avuto le forze di seguirli ma ha un buon terzo posto, sono molto contento. Nella categoria esordienti primo anno si è imposto il Cembrano Matteo Calovi. Il calendario del ciclismo su strada in provincia di Bolzano si concluderà domenica prossima alla Safety Park di Vadena con la gara in linea riservata alle sei classi della categoria giovanissimi.